Quale funzione della nuova Tesla mi ha più entusiasmato? L'estetica e le dimensioni sono le prime caratteristiche che mi hanno convinto, ma la funzione che mancava sulla mia Model 3 e che mi sta piacendo un sacco è il suono. Un rumore futuristico che si aziona nelle manovre di parcheggio e varia a seconda dell'accelerazione. A mio parere è persino migliore di altre auto elettriche e risolve i problemi di sicurezza con la retro. Ma a te questo suono piace o l'avresti preferita senza? Scrivi nei commenti e seguimi per la seconda recensione.